La battaglia contro l'euro e il referendum sono i temi principali su cui nei prossimi mesi la Lega Nord guidata da Matteo Salvini si gioca tutto. Temi su cui il Carroccio ha puntato per risollevarsi dopo i guai giudiziari e il periodo di transizione con Maroni al comando. Il suo successore, particolarmente attento alla comunicazione, sta cercando di ricostruire un partito a sua immagine e somiglianza, pragmatico, vivo e con slogan semplici che piacciono tanto alla gente. Oggi è una Lega moderna che sa twittare ma sa anche fare i gazebi, sa attaccare i manifesti e sporcarsi di colla ma sa anche comunicare ai media ed è tornata sulla cresta dell'onda in base alla nuova linea politica che abbiamo di cercare in tutti i modi di tutelare il nostro paese contro questa Europa. Ma non solo studi televisivi, Salvini ha voluto riportare il movimento a occupare le piazze come ai vecchi tempi, quelli degli anni d'oro con bossi in sella. Il segretario ha cercato di mettere alle spalle i problemi provando a dare nuovo entusiasmo al popolo leghista, un elettorato che fa gola al movimento di Grillo che peraltro dice di condividere molte battaglie del carroccio. Un entusiasmo che traspare ai 1379 gazebo dove in questi giorni si raccolgono le firme per il referendum. Argomenti che insieme alla battaglia contro l'euro per il movimento potrebbero risultare decisivi per il rilancio. Sì, ci giochiamo tutto ma siamo anche ottimisti perché non è solo la Lega, la Lega è uno dei movimenti politici che aderiscono a questa alleanza europea ma ci sono tanti altri partiti in tutti i paesi d'Europa che hanno un programma comune per cercare di ridare la parola al popolo contro questa Europa dei tecnocrati che con questa moneta criminale ha messo in ginocchio le nostre imprese e ha creato tutta questa disoccupazione. Una campagna referendaria partita con il botto. Ai gazebo è facile trovare le code per firmare. Metà delle persone che votano, in particolare per abolire le leggi Fornere e Merlin, non sono leghisti. Un altro tema che secondo i sondaggi sta avvicinando molta gente a carroccio è quello della battaglia contro l'euro. Gli ultimi danno il carroccio al 5,5%.